Cerca i distruggi. Distruggiamo l'obiettivo. Bomba piazzata. Abbiamo perso, ma non è finita. Cambio squadre. Cerca i distruggi. Difendiamo l'obiettivo. Non è finita. Non è finita. Contatto! Perfetto! 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 Sì, non è seco, Riccardo! Bene, prepararsi alla prossima battaglia. Cerca i distruggi. Distruggiamo l'obiettivo. Sì. 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 Ottimo! Pronti al prossimo round! Cambio squadre. Cerca i distruggi. Distruggiamo l'obiettivo. Contatto! Hangar principale! Affermativo! Contatto! Abbiamo perso, ma non è finita. Squadre! Cerca i distruggi. Difendiamo l'obiettivo. Copritemi mentre ricarico. E' desatto! E' taglio a terra. Cambio caricatore! Ma non sono neri, lascia a te. Ancora, la scuola! Buon attuale! L'acquitta, la scuola. C'è l'acquitta, l'acquitta. Le montano i dai! Ancora, l'acquitta! Grazie a tutti. Ottimo. Pronti al prossimo round. Cambio squadre. Cerca i distruggi. Distruggiamo l'obiettivo. UAV nemico in volo. Un'obiettivo. 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 Bomba piazzata. sei l'unico superstite ottimo sentinel a la 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 la